Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILE dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono 4 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione Firenze. È chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno. Per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Code in uscita alla Strassigna e in uscita a San Mignato entrambe provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!